Radio Ovest presenta musica classica ma non solo condotto da Nonno Muso Amore hai preso gusto per la lirica da quello che ho sentito era ancora la Callas hai ragione mi sto interessando alla lirica ma la prendo a piccole dose con magnifici interpreti per esempio il disco numero 5 ed è l'incomparabile Callas della collezione studio della voce del padrone orchestra filarmonia diretta da Tullio Serafin incisione datata 1984 ma i dischi sono due penso che non li darai tutti e due esattamente ora il primo dedicato Puccini la prossima volta l'altro presentiamo il primo brano in quelle trine morbidi dalla Manon Lescaux Manon Lescaux è un romanzo dell'autore francese Antoine François Prevost conosciuto anche come Abbé Prevost la prima rappresentazione ebbe luogo la sera del primo febbraio 1893 al Teatro Reggio di Torino con Cesira Ferrani e Giuseppe Cremonini Bianchi in questa occasione l'opera ottenne un successo clamoroso alla presenza del compositore dell'autore francese Grazie a tutti. 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 Sentiamo ora Sola, perduta, abbandonata, che è sempre dalla Manon come secondo brano. Poco dopo il debut dell'opera ci furono numerose varianti di scarsa entità, forse concepita durante le prove o la rappresentazione al Teatro Regio. La modifica più vistosa è il taglio opzionale di 23 battute nell'area di Manon, sola, perduta e abbandonata. E la nostra versione qual è? Non so proprio dirlo. Qui chiedo aiuto al mio pubblico. Sempre più numeroso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una perduta, abbandonata. Orrò... 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 Verna di pace, mi sembrava questo, a mia vita onesta, i ritmi di accente, strapportano in visivo via, or tutto il mio passato, orribile risorte, che mi puntando il porto mio si rosa, e il risultato è sempre, se non ci rosa. E il risultato è sempre, se non ci rosa, e il risultato è sempre, se non ci rosa, e il risultato è sempre, se non ci rosa, e il risultato è sempre, se non ci rosa, da Madame Butterfly. Un'opera in tre atti, sebbene in origine fossero due, di Giacomo Puccini, sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, definito, nello spartito e nel libretto, tragedia giapponese, è dedicata alla regina d'Italia Elena di Montenegro. Puccini scelse il soggetto della sua sesta opera, dopo aver assistito al Duke of York Theatre di Londra, nel giugno del 1900, la tragedia in un atto di Madame Butterfly di David Velasco, a sua volta tratta dal racconto dell'americano John Lutter Long, titolo Madame Butterfly, apparsa nel 1898. Ascoltiamo Un Bel Dì Vedremo. 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 E per fly dalla lontana Io senza dar risposta Me ne starò nascosta Uno per cegna E un po' per non morire E non passano Ed egli al porto in pena Chiaverà, chiaverà Piccina, piccina Pobrezzo divertito In un nome che mi dava Al suo venire Tutto questo verrà Che ti prometto E attivare Non vorrei Che te bello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si trascina verso il figlio e gli cade vicino. Si sente da lontano la voce di Pinkerton che grida butterfly, butterfly, quindi egli entra insieme a Sharpless nella stanza di Butterfly e le chiede scusa. Ma è troppo tardi e la trova ormai morta, mentre il bambino bendato gioca con una bambola e la bandierina, ignoro di tutto. Il brano è Con onor muore. Chi non può servar vita con onore. Con onore. Il brano è 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 Con onore. Con onore. Il brano è Con onore. Il brano è Con onore. 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 Con onore. Con onore. Con onore. Il brano è Con onore. i quali gareggiano a scrivere contemporaneamente due opere omonime tratte dalla stessa fonte. Dopo oltre un secolo, l'opera di Puccini è ancora fra le più popolari al mondo, mentre quella di Eoncavallo non ha mai avuto molto successo. Sì, mi chiamano Mimì, che proponiamo ora, dice la protagonista Rodolfo, che le ha appena cantato che geli da manina. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. La storia mia è breve, la terra ossita ricamo in casa e muori. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Mimì, ma il mio nome è Lucia. Il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Il mio nome è Lucia. Sì, mi chiamano Mimì. Mimì, ma il mio nome è Lucia. 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 Tu sei morto, senso sapere quanto ti amo, questo tuo amore. Ora che sei un angelo del cielo, ora tu puoi vederla da tua mamma. Tu puoi scendereci nel firmamento. Tu puoi scendere, intorno a me ti sento. Sei qui, sei qui, mi baci in tutto. Sei qui, sei qui, mi baci in tutto. Tu puoi scendere, intorno a me ti sento. 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 Tu puoi scendere. Tu puoi scendere, intorno a me ti sento. Tu puoi scendere, intorno a me ti sento. La canta è il personaggio di Lauretta, rivolgendosi al padre Gianni Schicchi quando lo scontro tra quest'ultimo e la famiglia Donati giunge a un punto tale da mettere a rischio la sua storia d'amore con Renuccio Donati. Tu puoi scendere, intorno a me ti sento. 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 ничего delbero gli alоде della morte. Sì, non è tanto mascherò di contorno a me ti sento il mondo, ma per buttarmi in armo, mi riprendo il mondo. Oh, Dio, vorrei morire. Oh, Dio, vorrei morire. Signore Ascolta, che ascoltiamo, è l'aria per soprano del primo atto dell'Opera Turandot di Giacomo Puccini. I testi in italiano sono stati scritti da Giuseppe Adami e Renato Simoni. Il testo è basato sull'adattamento di Friedrich Schiller di uno dell'Opera Turandot di Carlo Bozzi. È cantata da Liu, una schiava, al principe Calaf di cui è segretamente innamorata. Liu canta quest'aria implorando Calaf di non rischiare la vita per il suo amore con la bella ma fredda principessa Turandot, la quale pone come condizione che chiunque desideri sposarla debba prima rispondere ai suoi tre enigmi e se fallisce verrà decapitato. Le parole di Liu toccano il cuore del principe che risponde con «Non piangere, Liu». Signor, ascolta. Signor, ascolta. «Non piangere, Liu, non ricci più» «Si spessa il cuore mio e me» Quanto cambino, cui tua nome è l'anima, cui tua metto sulle labbra, ma se tu desideri, tu mani sua amicizia, tui morreri su nostra morte in desinio. E perderà tuo figlio, e non produsso a rida. Più, 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 più. Più, 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 più. Più, 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 più. In questa reggia è un'aria dell'opera Turandot. L'aria si svolge nella seconda scena del secondo atto ed è cantata prevalentemente dalla principessa Turandot, il soprano, ma con la risposta di Calaf, il tenore, che è un punto chiave dell'opera. Ma qui non presentiamo la risposta del tenore. Sul disco, infatti, non compare. Nell'aria Turandot spiega di aver concepito tre enigmi come una prova per qualsiasi principe che volesse sposarla. Spiega che nello stesso palazzo, migliaia di anni fa, la principessa regnante Liu Ting fu conquistata dal re dei Tartari, violentata e uccisa. Basandosi sul ricordo e sul concetto di quel grido tramandato di generazione in generazione fino alla stessa del Turandot decide di vendicare quella morte imponendola a tutti gli uomini che falliscono nel tentativo di sposarlo. Avverte il principe che se non riuscirà a rispondere a uno dei qualsiasi tre enigmi morirà. Il culmine dell'aria avviene con la parola grido, ed è chiaro che Turandot sta rivivendo e personificando gli ultimi momenti del suo antenato, il suo sdegno e la sua tanta attesa vendetta. Il culmine dell'aria avviene con la parola grido, il suo sdegno e il suo sdegno e il suo sdegno e il suo sdegno. L' similarly, la parola grido, il suo sdegno e il suo sdegno è 소� witness. Qui nell'anima figo si rifugio Principe, saluto l'uomo Una dolce serena Che regnavi nel tuo cuo silenzio In gioia ancora In sfidus di flessi di risicura L'aspro dominio Oggi rivevi Pure nel tempo che ciascun ricorda O sgomento ed errore Tanto dormi Il regno vinto Il regno vinto E non l'abbiamo trascinata D'un uomo come te Come te straniera Da della notte atroce Dove si spense La sua fresca voce O principi Che allunghi Il regno Un regno Il 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 regno L'orror di te, oggi, che mi molesta, mi stai. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Durandò vuole conoscere il nome del principe misterioso e quando viene a sapere che la serva conosce il suo nome le ordina di rivelarlo. Lei perdutamente innamorata non lo tradisce e viene torturata. La principessa è chiaramente presa dalla volontà di Liu che chiede cosa le abbia messo tanta forza nel suo cuore. Liu risponde, principessa, amore. A presto. 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 Il primo disco è finito. La prossima puntata non avrà un autore solo e divinitenzierà maggiormente la prodigiosa musicista ed interprete che è Maria Callas. è strano che avendo a disposizione tali insegnamenti non ci sia ancora stato un soprano così. Ascoltando Radio 3 e il programma La barcaccia di suozzo e Stinchelle si ha ancor più questa sensazione anche se di belle voci sia attempate che giovani ci sono ma la versatilità della callas non ho avuto ancora modo di trovarla saluto con un abbraccio fate bei sogni e alla prossima musica classica ma non solo programma ideato e condotto da nonno muso per contattare direttamente nonno muso potete utilizzare l'indirizzo mail nonno muso e radiovest.it Grazie Grazie Grazie